è il finale di prima cliente che spieghiamo prima che aveva la radice arancione e non era contenta alessandra come ti sembra oggi il colore perfetto e il capello è sano e curato al massimo e la tua esperienza che racconta la tua esperienza qua da me dunque per un periodo molto lungo ho avuto un colore che non potevo che continuavo a rifarlo per raggiungere il mio obiettivo di un colore freddo poi finalmente ho conosciuto melin la specialista del colore ed ho raggiunto questo colore freddo desiderato quindi sono completamente soddisfatta non ci credevi che esistesse una specialista del colore non ci credevo e soprattutto diffida